Che finisca ancora il campionato, però come società naturalmente, come abbiamo già a più di prese parlato, stiamo già programmando prese per i prossimi anni, non solo per i prossimi anni, ma per i prossimi anni. Oggi è l'occasione per presentare prima dell'inizio e alla fine del campionato il nostro nuovo allenatore per le prossime due stagioni che è Stefano Ferrati, che naturalmente ringraziamo innanzitutto per la disponibilità che ha avuto appena stato contattato prima della Final Four e non è da tutti entrare a fine campionato prima di una Final Four che quindi si è preso e qui ha dimostrato una persona che ha oltre la volontà e la determinazione di arrivare in alto, ma sicuramente anche la capacità proprio di voler mettersi subito anche ad alto rischio perché non è facile magari quando subentri verso la finestrazione. Quindi insomma lo ringraziamo e con lui stiamo già naturalmente programmando per il prossimo anno e a noi risulta molto più semplice perché se avendo già un allenatore, avendo già lavorato e conosciuto le ragazze che abbiamo, si sta facendo un'idea di quello che possono essere e saranno gli obiettivi.